Tutti i documenti eventualmente dove sono? Dentro Sotto cello, ok, va bene Tanto non vado lontano però E' acceso Eh no, c'è il cavalletto Ah, non si accende proprio Genius Ah, ecco perché se l'ha spinto Mamma mia Sono tornato sul cinquantino Minchia Siamo sopra diciamo un cinquantino Che è del mio amico Dell'Aprilien SRS credo Dai siamo a settantacinque Ora glielo riporto perché era da solo meschino No, c'è un solo specchietto Che brutto No, c'è un solo specchietto No, c'è un solo specchietto No, c'è un solo specchio Eh, qua siamo in salita E' fatica il tipello Eh, qua però dai La sua velocità la fa No Oh, frago Come si impenna L'ho portato ai 75 Sì Anche perché oltre non va quindi io Prendi scelto giù in via i soldi Ho portato ad 80 Sì, tira Però un po' Ma mio padre mi ha detto Non ci devo esagerare Se non così Si ruppe Andiamo Vai 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 strada Che dai non è male No, no Niente male A me piacciono i cinquantini Come cosa Quindi ragazzi Questo qua era il video Della prova su strada Del cinquantino del mio amico Che vi avevo promesso In cambio dei 25 like Del video precedente Cioè il giro assieme a lui A Montefasce Fino ad Uscio Perciò vi invito ad andarla a vedere Ve lo lascio nella i in alto destra E vi invito inoltre A lasciare un like Un commento sotto questo video E di condividere il video Con i vostri amici Con questo vi saluto Ciao